Nel momento in cui registro sta per partire la sonda Psyche, una sonda della NASA che ha come obiettivo l'asteroide 16 Psyche, un asteroide della fascia principale, uno dei più grandi che conosciamo, che probabilmente è fatto quasi integralmente di metallo. Nel tempo questo ha portato a pensare che Psyche possa essere quello che resta di un nucleo di un antico pianeta che non è riuscito a formarsi. Ne parliamo nel video di oggi. Quest'autunno è veramente molto asteroidale, ci sono molte novità dal punto di vista della scienza degli asteroidi, a partire dal rientro dei campioni della sonda OSIRIS-REx che ha raccolto dei campioni dall'asteroide Bennu e che lo scorso 24 settembre ha riconsegnato questi campioni a Terra. Nei giorni passati sono già state fatte delle analisi preliminari su questi campioni che li rendono veramente molto preziosi dal punto di vista dello studio degli asteroidi ma anche in generale di come si è formato il sistema solare ma ne parleremo più dettagliatamente quando avremo maggiori informazioni. Nel frattempo sta per arrivare anche la sonda LUSI della NASA che è quella diretta verso gli asteroidi troiani di Giove, sta per arrivare verso il primo dei suoi obiettivi che è l'asteroide Dinkinesh che incontrerà il prossimo primo novembre. Nel momento in cui registro però è quasi in partenza la sonda della NASA Psyche, in realtà doveva partire proprio oggi 12 ottobre e per ora è stato rimandato il lancio a domani, il 13, poi vedremo se partirà effettivamente domani e quindi il fatto che userò il futuro in questo video spero che non sia un problema per voi ma probabilmente vedrete questo video dopo il lancio avvenuto. Piccolo disclaimer io utilizzerò la pronuncia anglosassone quindi Psyche quando parlo della sonda mentre parlerò di psiche o 16 psiche quando parlo dell'asteroide per mantenere appunto la nomenclatura insomma italiana o che deriva dal greco. Ecco proprio per distinguere più facilmente tra questi due oggetti non dover ogni volta specificare che sto parlando della sonda o dell'asteroide. La sonda Psyche è stata selezionata nel 2017 per il programma Discovery della NASA che sono quelle sonde a basso budget che vengono rapidamente progettate e poi lanciate verso obiettivi mai raggiunti prima quindi degli obiettivi nuovi del sistema solare. Sono delle sonde appunto a basso costo che portano poca strumentazione scientifica e per lo più portano degli strumenti che sono stati già rodati già utilizzati su altre tecnologie su altre sonde in passato in modo da minimizzare i rischi e minimizzare anche i tempi di progettazione e quindi i costi. In teoria la sonda doveva partire l'anno scorso nel 2022 ma c'è stato un anno di ritardo a causa di problemi insomma legati alla progettazione per cui non era ancora pronta non aveva finito delle fasi di test e quindi è stata rimandata a questo ottobre 2023. Inizialmente doveva partire il 5 poi il 12 adesso il 13 e adesso vedremo appunto se domani effettivamente verrà lanciata. La timeline della missione è molto semplice nel 2026 la sonda si incontrerà con Marte e lì farà un sorvolo un flyby che permetterà di svolgere una manovra di fionda gravitazionale che proietterà la sonda direttamente verso la fascia principale degli asteroidi e dovrebbe raggiungere il suo obiettivo appunto 16 psiche nel 2029. Nell'agosto di quell'anno si inserirà in orbita attorno all'asteroide e vi resterà per circa 21 mesi in totale. Non farà campionamenti non farà manovre complicate semplicemente gli dovrà orbitare attorno per svolgere delle osservazioni da remoto e studiare quindi questo oggetto. Lo farà attraverso una sequenza di orbite sempre più strette attorno all'asteroide che la faranno partire da una a circa 700 chilometri di altitudine sulla superficie dell'asteroide che manterrà per circa 56 giorni poi resterà a 300 chilometri altitudine per 92 giorni e infine a 75 chilometri per 100 giorni. Questa sarà la minima distanza che raggiungerà l'asteroide dopodiché si allontanerà ulteriormente per i successivi 200 giorni. In effetti a quel punto passerà a 190 e poi a 300 chilometri di altitudine. Ora questa sequenza è utile perché ci permette di sfruttare meglio le potenzialità dei vari strumenti quindi quando per esempio la sonda si troverà a 700 chilometri altitudine potrà fare delle mappe generali dell'asteroide, un primo incontro, un primo approccio a questo asteroide e potrà utilizzare il suo magnetometro che gli consentirà di studiare il campo magnetico di questo oggetto se c'è un campo magnetico ovviamente questa è una delle questioni di rimenti per quanto riguarda la missione. Un dettaglio che trovo molto affascinante dal punto di vista ingegneristico di questa missione è il suo sistema di propulsione. Infatti Psychey utilizzerà una propulsione di tipo solare elettrico che è una propulsione che abbiamo già utilizzato anche in altre occasioni per esempio nella sonda Dawn o anche nella sonda Hayabusa di cui tra l'altro sto preparando uno speciale che prima o poi riuscirò a far uscire qui sul canale e comunque questo sistema di propulsione è molto semplice essenzialmente ci sono dei pannelli solari che raccogono l'energia del sole e questa energia viene utilizzata per caricare elettricamente un gas inerte come lo xenon oppure il krypton. Questo gas inerte viene poi agganciato da un campo magnetico nel momento in cui è carico elettricamente e viene spinto fuori dalla sonda generando quindi la propulsione. Questo sistema di propulsione è piuttosto efficiente tanto che si può portare circa un decimo della massa di gas rispetto al carburante al propellente necessario per la propulsione chimica standard. Liberare massa significa abbattere i costi di lancio perché ogni chilo che portiamo allo spazio ha un costo piuttosto elevato e inoltre significa anche liberare della massa che può eventualmente essere dirottata verso il carico scientifico che è qualcosa che ha un valore intrinseco piuttosto elevato. Prima di proseguire parlare della strumentazione scientifica e poi di che cosa potremmo studiare perché ci interessa tanto questo asteroide 16 psiche vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se non l'avete già fatto. Per chi non mi conoscesse io sono Luca Nardi astrofisico divulgatore scientifico e su questo canale youtube mi occupo in particolare di scienze planetarie quindi dello studio dei pianeti e più in generale dell'esplorazione spaziale e di astronomia. Quindi se vi appassionano questi argomenti vi invito a iscrivervi al canale. Vi ricordo inoltre che proprio in questi giorni sta uscendo il mio secondo libro giganti ghiacciati sulle orme delle sonde Voyager alla scoperta di Urano e Nettuno. Un libro che ho scritto a quattro mani con Fabio Nottebella e che è il primo libro in assoluto in italiano che si occupi proprio dei giganti ghiacciati quindi di Urano e Nettuno e dei loro sistemi di lune ghiacciate di tritone degli anelli insomma un po' tutto quello che sappiamo di questi mondi. Il racconto parte poi dall'epopea delle sonde Voyager che sono le prime per ora uniche che ci hanno permesso di visitare questi mondi gelidi ai confini del sistema solare. Se vedrete questo video prima del 20 ottobre potete preordinarlo su Amazon oppure sul sito della casa editrice altrimenti potete trovarlo in libreria insomma sui vari store che preferite e potremo tra l'altro incontrarci nelle varie presentazioni che ci saranno nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi in giro per l'Italia. Le prime saranno ad Aosta il 20-21 ottobre e a Genova al Festival della Scienza il 28 ottobre. Vi segnalo poi il 27 ottobre che ci sarà il debutto del mio spettacolo Giganti Ghiacciati dedicato proprio a questi mondi a seguito del quale ci sarà proprio una firma copie. Lo spettacolo sarà alle ore 21 al Teatro Scientifico Bibiena di Mantova. Qui sotto oltre al link per preordinare questo libro e le varie informazioni che riguardano questi eventi vi lascio anche il link al mio canale Telegram che è il primo posto in cui porto i vari aggiornamenti e le varie informazioni sui prossimi eventi a cui partecipo. Trovate anche il link al gruppo Telegram, qui potete venire per fare due chiacchiere con tanti appassionati come voi e inoltre trovate il link alla mia pagina TP che sostiene questo progetto di divulgazione qui su YouTube. Ne approfitto per ringraziare i miei tippers perché anche grazie a loro che questo progetto può andare avanti. Psyche ha quattro strumenti scientifici. Uno come dicevo è un magnetometro quindi uno strumento che consente di misurare il campo magnetico che circonda questo corpo planetario e se c'è questo campo magnetico è particolarmente interessante studiarlo perché sarebbe un residuo proprio della sua fase se vogliamo primordiale in cui eventualmente era un corpo planetario completo e caldo perché i campi magnetici planetari si formano soltanto quando abbiamo dei corpi abbastanza caldi da consentire l'esistenza di un fluido conduttore che si muove al suo interno. Poi magari di come funzionano i campi magnetici planetari ne parleremo per bene in un altro video. C'è poi un imager multispettrale ossia una fotocamera che lavora però a diverse frequenze quindi questo ci permetterà sia di ottenere delle immagini nel visibile e nell'infrarosso in particolare ma anche di poter analizzare queste immagini a diverse frequenze ottenendo così delle informazioni su quella che è la struttura e la composizione della superficie dell'asteroide. Ottenere delle immagini all'infrarosso e dei dati all'infrarosso ci consente infatti di studiare i minerali per esempio che ci sono su questa superficie ma anche dei dettagli che riguardano proprio la struttura la composizione di questa superficie non solo dal punto di vista chimico e mineralogico ma anche proprio della struttura di come sono fatte per esempio i grani che si trovano di regolite sciolti sulla superficie dell'asteroide e molti molti altri dettagli. Un altro strumento è uno spettrometro che si occupa di raccogliere i neutroni e i raggi x che vengono rilasciati da questa superficie. Quando i raggi cosmici colpiscono le particelle della superficie gli trasferiscono la loro energia che poi viene rilasciata sotto forma di raggi x e vengono rilasciate anche dei neutroni in questo processo. Quindi studiare i neutroni e i raggi x che vengono da superficie dell'asteroide ci permette di avere delle informazioni su quelle che sono le particelle che l'hanno rilasciata e quindi quali sono anche le loro composizioni elementari. Il quarto strumento scientifico in realtà non è davvero uno strumento scientifico ma è l'antenna stessa per le comunicazioni. Questa è un'antenna radio che trasmette le sue informazioni o riceve le informazioni dalle grandi antenne del Deep Space Network della NASA che però può essere utilizzata anche per fare degli esperimenti di gravità. In che senso? La sonda orbiterà attorno all'asteroide ma l'asteroide non sarà senz'altro una sfera perfetta anzi avrà una sua distribuzione di massa magari in alcune regioni più massiccio in altre meno massiccio e questo significa che mentre la sonda orbita attorno all'asteroide può ogni tanto leggermente avvicinarsi o allontanarsi a seconda di quanta massa trova vicino a sé. E questo ha degli effetti proprio sui segnali radio che la sonda spedirà verso di noi. Si genera infatti dell'effetto Doppler ossia quello legato al fatto che la sorgente si avvicina si allontana da noi mentre spedisce il suo segnale e misurando questo si possono studiare alcune proprietà proprio dell'asteroide come appunto soprattutto la distribuzione di massa ma anche misurare proprio la sua gravità e qual è quindi di conseguenza la sua massa. Tutte queste informazioni messe insieme ci permetteranno di capire fino in fondo quali sono le caratteristiche di questo asteroide ma qual è anche proprio la sua reale natura se è un nucleo di un pianeta oppure no. 16 psiche è un asteroide davvero interessantissimo fu scoperto nel 1852 dall'astronomo abruzzese Annibale de Gasperis come sedicesimo asteroide scoperto in assoluto nella storia perché lo c'è 16 psiche proprio che è il sedicesimo scoperto. Ha un diametro di circa 220 chilometri e se escludiamo Cerere visto che a rigore dovremmo considerarlo un pianeta nano è anche il sedicesimo asteroide più grande della fascia principale degli asteroidi nonché il dodicesimo più massiccio. In particolare Vesta che è quello che detiene il record per dimensioni e per massa se escludiamo Cerere ha una massa che è pari a circa il 9% di quella totale della fascia principale degli asteroidi che in totale circa il 3% della massa della luna. Ecco psiche è circa un decimo di Vesta quindi circa l'1% della fascia principale degli asteroidi. Ma ovviamente non sono queste le ragioni per cui abbiamo scelto altrimenti avremmo potuto scegliere altri 15 asteroidi più grandi o altri 11 più massicci. Ci sono c'è un'altra ragione che è particolarmente affascinante che rende particolarmente interessante raggiungere questo obiettivo. Tutta questa massa di psiche infatti è racchiusa all'interno di un diametro di 220 chilometri e questo significa che la sua densità è piuttosto elevata. In effetti pesa circa 4 tonnellate per metro cubo che è considerevolmente di più della densità media delle desilicate di quelle rocce che compongono anche la crosta terrestre su cui camminiamo tutti i giorni. Ecco questo significa che psiche probabilmente non è fatto solo di silicati anzi. Psiche infatti è l'asteroide più grande che conosciamo di classe M che è una classe di asteroidi che è molto ricca di metallo in particolare di ferro e nickel. E sono proprio questi ad aumentare la densità a parità di volume. Siamo sostanzialmente certi che questo asteroide è molto ricco di metallo. Lo abbiamo studiato attraverso diverse tecniche a partire da quelle spettroscopiche che sono poi quelle che vengono utilizzate proprio per classificare gli asteroidi che ci permettono anche da remoto di studiare la composizione media dell'asteroide. Alcuni recenti studi però hanno osservato anche delle firme spettrali degli silicati. Quindi non c'è solo metallo ma ci sono appunto anche silicati. E questo significa quindi che psiche non è fatto solo di metallo ma è fatto di diversi composti. E questo è qualcosa che mette un po' in crisi quell'idea che viene anche utilizzata dalla NASA molto per comunicare questa missione che è quella che psiche sia proprio il nucleo di un pianeta che ormai non c'è più. Un pianeta in cui attraverso una serie di impatti planetari è stata strappata via la crosta e il mantello lasciando appunto spoglio se vogliamo il nucleo centrale fatto di ferro e nickel. Del resto questa ipotesi risulta un po' strana anche se guardiamo il valore di densità che sono appunto 4 tonnellate al metro cubo che è vero che più di quello che ci aspettiamo per i silicati ma è molto meno di quello che ci aspettiamo per un nucleo fatto di ferro perché il ferro ha una densità di circa 8 tonnellate al metro cubo e quindi c'è qualcosa che non torna evidentemente. Ci sono essenzialmente tre ipotesi fondamentali che riguardano l'origine di psiche. La prima è appunto quella più antica che comunque ancora non possiamo escludere del tutto che questo sia un nucleo di un protopianeta, un pianeta che si stava formando che attraverso una serie di impatti planetari è stato strappato, gli è stata strappata appunto la crosta e il mantello lasciando questo nucleo spoglio al centro. La seconda è che invece questo nucleo sia stato spacchettato, spezzettato in vari frammenti che poi si sono riuniti per forza di gravità a formare uno di quei corpi che chiamiamo rubble pile, ossia di cumuli di detriti come tanti asteroidi che abbiamo visitato. Quindi questo protopianeta sarebbe stato spezzettato in tanti frammenti e questi frammenti si sarebbero riavvicinati. Ovviamente a quel punto alcuni frammenti possono essere di silicati, altri di metallo, magari la maggior parte sono di metallo, però si capisce anche di più perché psiche ha un valore di densità più basso rispetto a quello che ci aspetteremmo per un nucleo solamente di ferro, semplicemente perché se mettiamo insieme un po' di frammenti di roccia questi non si compattano perché la gravità non è abbastanza e quindi restano tanti spazi vuoti. I spazi vuoti però contribuiscono al volume ma non alla massa e quindi la densità per forza di cose diminuisce. La terza ipotesi è un po' più esotica se vogliamo e riguarda il cosiddetto ferro vulcanismo, ossia psiche potrebbe essere a tutti gli effetti un corpo integro, un corpo planetario piccolo ma comunque differenziato, ossia in cui c'è un nucleo con i metalli più pesanti, c'è una crosta con i silicate più leggeri e poi un mantello di transizione tra il nucleo e la crosta. Tuttavia dall'interno potrebbe risalire del metallo, del ferro, del nickel attraverso delle spaccature all'interno della superficie e in questo modo risalirebbe appunto sulla superficie mostrandosi e quindi mostrando le sue caratteristiche spettrali che poi studiamo da terra. Questo appunto è il cosiddetto ferro vulcanismo in cui è il ferro a risalire sulla superficie che si contraddistingue dal vulcanismo normale che abbiamo qui sulla terra in cui sono invece i silicati, quindi le rocce a fondere e a risalire in superficie e si distingue anche dal criovulcanismo in cui invece a risalire in superficie sono i cosiddetti ghiacci, ossia quelle sostanze che gli astronomi chiamano ghiacci che sono essenzialmente l'acqua, l'ammoniaca, il metano, insomma quelle sostanze che possono ghiacciare alle temperature fredde ai confini del sistema solare. Insomma la realtà è che non sappiamo ancora come si è formato psiche e speriamo di capirlo proprio grazie alla sonda Psyche che nel 2029 raggiungerà questo asteroide e ci permetterà di studiarlo in lungo e in largo. Mentre aspettiamo io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, attivare la campanella e a dare un'occhiata in descrizione per i vari link al canale gruppo Telegram, al libro, ai vari eventi tra cui lo spettacolo di Mantova e tutto quanto il resto appunto di cui vi ho parlato. Ciao e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!